Le sedie mi sembra che ci siano tutte e mi dicono che ci siamo, più o meno, possiamo chiamare il prossimo Rione Rione Montemello! Sai perché ci sono le sedie? Perché? Perché? Perché il preme Ah, perché qualcuno deve... Dire messa, no? No, deve aggiungere... Un posto a stavola! Rione Montemello! Rione Montemello! Rione Montemello! Rione Montemello! Rione Montemello! Rione Montemello! La luce è sempre accesa La porta è sempre lenta La luce è sempre accesa Il corpo è sempre venuto L'amore è sempre accesa Il corpo è sempre vivo La mano è sempre presa La porta è sempre accesa La luce è sempre accesa Se qualcuno arriva Chiedergli chi sei No, no, no No, no, no E se qualcuno arriva Chiedergli che vuoi No, no, no No, no, no No, no, no Incorri verso lui Nella tua mano tesa Incorri verso lui Corri verso lui Grida e viva E viva E viva E viva E' viva, è 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 viva. Giù su un posto a tavola, che c'è un amico in più, se sposte un po' la sergelà, se sposte un po' la sergelà, Grazie a tutti. Grazie a tutti.